Ciao, sono il cognito Asquale e oggi faccio la caccia nuova perché il 5 aprile è Pasqua. È Pasqua, per fare quel modo. Guardate, ho portato questi ovetti. Adesso li nascondo e Totti li dovrà trovare pure i suoi amichetti. Vediamo se li trova tutti. Voi non dite dove sono, mi raccomando. Bianchina, puoi venire con me? E tutti gli altri? Sì, evviva, evviva. Dovete rieandare? A comprare latte per mamma. Va bene, andiamo. Andiamo tutti. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Bene, adesso posso nascondere tutte le uova! Sì, 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 sì! Ah, sto tornando! Eccomi qua, sono tornata, ho comprato il latte per mamma! Amici, venite, entriamo dentro casa! Oh, ci sono ancora ovetti! Ovetti? Ma che ovetti sono? Ma è pieno di uova! E cosa sarà successo? Il coniglietto pasquale che è passato! È passato il coniglietto pasquale! Allora dobbiamo cercare tutte le uova! Sì! Vediamo un po', dove le possiamo mettere le uova? Ci servirebbe un cestino oppure un secchio, qualcosa per metterle dentro! Oh, eccolo, possiamo metterle qui! Dai, tutti a cercare le uova! Mi date una mano? Dove stanno? Eh, dove? Ecco! Dove? Ah, qui! È vero! Aspetta, le vado a prendere! Ecco la prima nel cestino! Dove sono le altre? Dove? Ecco la! Dove? Ah! Sì, è vero! Metti, metti! E dove ce ne sono altre? Dove? Ah, sulla clinica! Sulla clinica! Prendi quelle nella clinica! Sul tavolo! Sì, sì! Bene! Ancora, ancora! Poi ne vedete altre? Ah, dove? Nel lavandino! È vero! Poi ne vedete delle altre? Oh, eccole! La tra di due! Sì! Brava! Vai, Bianchina! Riempiamo! Poi, ne vedete altre? Nella cuccia! Guarda, qui! Questa cuccietta! Ci sono delle... Nella vasca! È una vasca? Sì, c'è ragione! È una vasca! E poi? Sono finite? No! Ce ne sono altre! Ma... Nel water! Nel water! C'è un ovetto! Chi lo prende? Bleh! È pulito? Sì! Ah, l'ha preso il maglialino tanto! Poi? Sono finite? No, c'è solo altre! Ah, sul letto! Sul letto! Eh sì! E le butto qui! Wow! Quanti! Mi sa che li abbiamo veramente raccolti tutti! Che bella caccia al tesoro che abbiamo fatto! Siamo stati veramente bravi! Sì! Sono stato io a metterli! Siete stati bravissimi! Vi do un bel tesoro! Sì, sì! Siete stati così bravi che c'è una sorpresa per voi! Siete pronti a dire tatan! Tutti quanti dovete dire tatan! Tatan! Wow! Vi piace? Sì! Wow! Adesso potete scartarlo! E' tira! E' tira! Wow! Ciao! Ma chi è? È il nostro festa! Ciao! Io mi chiamo Poppy! Ah, ma sei veramente carino! Ci piaci proprio tanto! Festeggiamo! Che bello! Poi ti faccio anche la visita, lo sai? Perché io sono la dottoressa Peluche! Sì! Quindi se ti succede qualcosa io ti posso visitare! Ok? Che bella festa! Grazie, coniglietto Pasquale! Festeggiamo! Festeggiamo! Sì, che prego! Sono divertito tanto! Cantiamo tutti la canzoncina di Dotti? Sì! Vai! Io mi sento... No! No? È Pasqua e oggi abbiamo tutte aperte le uova di Pasqua Abbiamo cercato ed è arrivato qualcuno Perché è la nascosta da un posticino Ciao a tutti! Ciao, 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 ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao!